a fare questi reportage due pui rum bagnante loli più o meno due pui rum bagnante loli giusto? no io non riesco proprio a dirlo ti devi dirla tutta allora vai ripeti un po' due pui rum due pui rum non so neanche abbiamo bisogno di un biamonte no 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 io non sono vero due pui rum sono a posto ho bisogno della Silvia ho bisogno della Silvia venga Silvia due pui rum digimelo un po' due due pui rum mui ant loli vabbè no 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 guarda proprio non ci siamo non so neanche dirlo io no ma non è due pui rum due pui rum due pui rum due pui rum dillo un po' ecco due pui rum bagnante loli oh io sono pure più montese ma